Il legame fra Hollywood e la politica è sempre stato forte. Ex attori come Arnold Schwarzenegger e Ronald Reagan sono diventati poi politici di successo, tanto che Reagan fu anche presidente degli Stati Uniti. Ora, a questa lista potrebbe aggiungersi un volto nuovo, quello di Will Smith. L'attore di Man in Black ha detto di star pensando ad una carriera nel Partito Democratico. Dopo che il rapper Kanye West ha svelato di essere pronto a candidarsi per le presidenziali del 2020, un altro VIP come Will Smith potrebbe precederlo. Sto lavorando molto duramente per migliorare il mio modo di comunicare ed essere più eloquente, sia con il corpo sia con la voce, in modo da riuscire a offrire alle altre persone nuove idee. E guardando all'attuale panorama politico sono convinto che là fuori ci sia un futuro anche per me. Credo che qualcuno potrebbe aver bisogno di me. Chissà che in futuro qualcuno non mi chieda di far sentire la mia voce per tematiche che si discostano dal mondo dello spettacolo. Sono convinto che il volermi rendere utile alle altre persone sia esattamente quello che mia nonna ha sempre desiderato, ha detto l'attore che potrebbe candidarsi nel Partito Democratico lo stesso di Obama. Sono come un alpinista, quindi se vedo una montagna davanti a me sento il bisogno di scalarla. Non mi piace stare in uno stesso posto troppo a lungo. Penso sia davvero arrivato il momento di rendermi utile per il mondo, ha aggiunto Smith, che evidentemente dopo anni di interviste conosce il modo giusto per parlare alla gente e potrebbe essere un politico perfetto per la situazione americana.